Noi dobbiamo superare questa vecchia cultura per la quale quello che è mio e mio, quello che è tuo e tuo, nessuno si occupa delle cose di nessuno. Noi dobbiamo smetterla di tenere pulita casa e sporcare il pavirottolo o la strada del palazzo dove abitiamo. Questo è il senso di questo messaggio che viene dalla società civile, che è contro gli incivili, che viene dalla circoscrizione, che viene dalla RAP, che viene dall'amministrazione comunale. Abbiamo deciso di portare avanti una campagna per ridurre a zero queste discariche. Lo vogliamo fare oggi simbolicamente con questa azione di condivisione, ma lo continueremo a fare nel futuro con alcune questioni che abbiamo già sul tavolo. Non è il gesto di qualcuno che vuole reprimere, ma è il gesto di qualcuno che accura dalla città. A partire dai paermitani che devono riprendersi la città e ci affidiamo per questo, ancora una volta, a Santa Rosalia. Grazie.